...fattori elettori, abbiamo le tasse più alte nelle cartelle esattoriali Niente, papà, oggi non ce n'è cartone animati, niente, solo politici E ora c'è la campagna elettorale, è il momento delle promesse Sai come funziona? Te lo spiego Allora, immagina che le verdure sono le tasse A te non piacciono le verdure, no? Eh, papà lo sa E cosa fa? Ti promette che non te le dà più e te le leva dal piattino Però mentre giochi, di nascosto papà che fa? Le frulla e te le mette nella frittata Eh, tu dopo che hai mangiato una frittata Senti un sapore strano, no? E lì capisci che ti ho infilato le verdure a tradimento E cosa fai? Pianci Ma ormai è troppo tardi, non serve più piangere Perché la frittata è fatta Tu ridi Ma quando piangi però te la prendi con papà Perché gli hai dato fiducia e ti senti tradito, giustamente E allora papà che lo sa risolve tutto E cosa fa? Dà la colpa alla mamma Ricorda papà Tu non saprai mai che ha fatto la frittata Ma l'importante è che te l'hanno fatta mangiare Questa è la campagna naturale Un giorno capirai Non saprai mai che ha fatto la frittata mangiare